nell'area protetta alle 6 di questa mattina dopo la sua chiamata. Non c'era più niente, hanno tolto tutto. A quanto pare la proprietà è amministrata da una società offshore. Ci vorranno mesi per trovare i veri proprietari. Se li troveremo. E i Volcan Simmons? La mia squadra lo ha prelevato questa mattina a Washington Heights, lontano dall'area protetta. Lo hanno interrogato per tutta la mattina. Ha un alibi per la scorsa notte. Gli staremo alle costole, ma senza prove sarà difficile dimostrare la sua versione detective. Sta dicendo che non abbiamo niente. Qualcosa abbiamo. Future Forward? Sì, fa parte del riciclaggio di denaro sporco. Di qualsiasi cosa si tratti, stanno incanalando grosse somme in quel conto. Non posso lasciarti un attimo sola. Amore, non ero sola. Mentre mi interrogavano, l'unica cosa che mi ha dato coraggio è stato pensare a ti. Al nostro futuro, al nostro matrimonio. Sei stato con me per tutto il tempo. Bene, almeno non tutto è per tutto. Ora che la polizia sa che Volkan Simons e Lazarus lo terranno d'occhio, non potrà più rimettere in piedi la sua impresa. Non è lui, Lazarus. Se fosse lui, ora sarei morta. Volkan Simons è soltanto un prestanome. C'è qualcun altro dietro, una persona più importante. Qualcuno che mi voleva viva. Chi? Un pesce più grosso.